Buonasera a tutti gli amici dal Museo Wunderkammer artificiali a Roma e benvenuti alla 277 puntata della serie Gemme musicali a casa. In questo episodio un altro grande compositore americano che ancora non avevo seguito, si tratta di Charles Thomason Griffiths, che viene considerato il più grande compositore impressionista americano, cioè che si è mosso sullo stile di Debussy e Ravelle, creato in primo luogo. Oggi vi andrò ad eseguire il primo dei True Tones Pictures che furono scritti nel 1910. Il pezzo in questione si chiama The Lake at Evening, il lago della sera, che si ispira a dei versi del grande poeta inglese Yeis. Lo stile è chiaramente, come vi ho detto, impressionista, di atmosfera e c'è un basso ostinato che si ripete alla mano sinistra per tutto il pezzo che sicuramente rimanda al famoso basso ostinato dell'EGB di Ravelle. Vi auguro buon ascolto, ci vediamo al prossimo appuntamento e vi ricordo il mio account per le donazioni per aiutarmi in tempo di Covid e sostenere queste numerose puntate. Buonasera a tutti. 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione!